carissimi buongiorno oggi è venerdì 12 giugno sono le 7 e 10 io sono partito da formia diretto a campo di venza sono appena arrivato al ranch di fernando fernando ceto purtroppo ho saputo da un indigeno che ho incontrato per strada dove parcheggiato che salirà domani per un giorno non vedrò fernando niente sarà sicuramente una bella passeggiata e ancora presto ho tanto tempo saluto tutti quelli che stanno a casa e magari con la speranza che possono venire un giorno a vivere questi paradisi buona giornata